La priorità ora è regia, la Virtus cerca il playmaker a cui affidare il meccanismo di Pino Sacripanti, vagliando tanti nomi dai già usciti Griffin e Green, possibilità concrete, a una lunga lista di giocatori americani nelle mani del coach bianconero e del direttore sportivo Martelli. Sarà il primo a fondo vero in una casella nella quale in questi giorni si verifica anche la possibilità di raggiungere David Cournot, ex della Biancoblu e ora Cantu, possibile playguardia partente dalla panchina assieme a Paiola ed eventualmente quarto italiano. Per quanto riguarda i lunghi, sembra sempre più tortuosa la strada che porta Gianner Reynolds, con Zenit e Galatasaray a offrire una cifra di due terzi superiore a quella bianconera e la Virtus disposta a spingersi al massimo fino ai 300.000 euro per il lungo titolare. Anche qui c'è una lista che andrà valutata nei prossimi giorni. Sarà comunque un mercato che richiederà molta pazienza, con la Summer League d'inizio luglio a rappresentare un appuntamento importante e alcune situazioni in stand-by. Per liberare i fraccatori da Trento, per esempio, ci vogliono 80.000 euro. Su Abbas, che per ora ha rifiutato le avanzi bianconere e non solo quelle, continuerà il pressing, puntando sul grande rapporto costruito a Cantu fra Sacripanti e la stessa Ala Azzurra, in uscita da Milano. C'è tutto un cast da mettere in scena accanto ai confermati Aradori, Baldirossi e Paiola. Un cast che dovrà recitare sul copione preparato dal coach Virtusino, fatto di atletismo, velocità e anche post basso. Intanto, mercoledì a Palazzo di Varignana, ci sarà la cena fra soci e sponsor, col duplice obiettivo di riannotare il dialogo all'interno della proprietà e trovare un coinvolgimento maggiore di marchi e imprenditori racchiusi all'interno della fondazione.